Addio a Nino Milazzo, giornalista della Vecchia Guardia, scrittore e uomo di cultura. Da mamma biancavillese era nato il 16 gennaio del 1930 proprio a Biancavilla, aveva 91 anni. Milazzo ha iniziato l'attività di giornalista nel 1952 a Catania, ma la stoffa per questo mestiere l'ha subito dimostrata mettendo le sue qualità in campo, qualità che l'hanno portato a scalare una carriera di tutto rispetto. Nel 1977 lascia la sua amata Sicilia per approdare al Corriere della Sera, dove ricoprirà l'incarico di vice direttore. Poi è stato l'imprenditore catanese Mario Ciancio Sanfilippo a volerlo come direttore responsabile del quotidiano La Sicilia, carica che ha ricoperto dal 1987 all'89. Successivamente ha collaborato e lavorato anche con l'indipendente Il Sole 24 Ore, l'Europeo. Era molto amico del giornalista Enzo Biagi e con lui ha anche collaborato alla realizzazione di tanti programmi televisivi. Qui lo vediamo passeggiare proprio insieme al suo amico Enzo Biagi il 18 gennaio del 1997 ad Adrano, dopo aver partecipato ad un convegno a Palazzo San Domenico. Dal 2000 al 2006 è stato direttore responsabile della testata giornalistica dell'emittente regionale Telecolor. Diversi saggi da lui scritti, tra questi nel 2009 un libro autobiografico dal titolo Un italiano di Sicilia. Un lungo viaggio nella memoria, nel fascismo, nella guerra, nella democrazia e nel giornalismo. Una testimonianza di una sofferta sicilianità. In alcune pagine del libro viene citata Biancavilla, la sua città natale, a cui era molto legato. Ricordi di un tempo, descrivendo la sua infanzia, raccontando gli ambienti agresti, le sensazioni e le tradizioni vissute da bambino. Il 27 febbraio del 2010 il Circolo Castriota di Biancavilla lo ha voluto nominare socio onorario, a conferirgli il riconoscimento l'allora presidente Pietro Dorto alla presenza del sindaco Giuseppe Glorioso. Nel 2011 fu presidente del Comitato Scientifico per le Attività Culturali del Comune di Biancavilla, curando la realizzazione, con una veste completamente nuova e con l'impronta giornalistica, l'annuario del Comune di Biancavilla su attività e temi culturali, annuario 2011, che è stato anche l'ultimo ad essere realizzato. Nel 2013 fu nominato presidente del Teatro Stabile di Catania, si dimetterà poi nel 2015. È stato un giornalista di tutto rispetto, lui ha sempre tenuto a dire che è stato un giornalista con la schiena dritta. Ci tengo a metterlo veramente come patrimonio personale del mio cammino professionale. Avrò sbagliato in mille cose, ma in una no. La mia schiena è sempre stata dritta, tant'è che ho accumulato qualcosa come sette dimissioni. Quando io non mi sono riconosciuto nella mia libertà, ho abbandonato il campo per cercare altrove la libertà che mi veniva contestata. Nino Milazzo, oltre ad essere un affermato professionista nel campo del giornalismo e di grande cultura, era soprattutto una persona per bene, umile, gentile e cordiale. Qualità queste riconosciute da tutti.